Reati in calo, quelli denunciati ai carabinieri di Lecco negli ultimi 12 mesi sono diminuiti del 7,54% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, nonostante la percezione a volte differente, ci sono stati meno furti. Il calo complessivo è del 23,78%, con un decremento del 29,66% di quelli in abitazione e del 29,11% negli esercizi commerciali, meno 8,57% per le rapine. L'arma, che continua a perseguire oltre l'87% dei reati in tutta la provincia, ha portato avanti un'importante attività di prevenzione, con oltre 54.000 persone e 41.000 veicoli controllati, 162 gli arresti, 1.800 le denunce. Al setaccio le aree boschive nei comuni di Dervio, Colico, Carolzio Corte, Bosisioparini, Cassagobrianze e dell'Oggionese. La lotta allo spaccio ha portato al sequestro di oltre 8 kg di marijuana, 3.393 kg di hashish, 877 grammi di rovina e 661 di cocaina, all'arresto di 24 persone, alla denuncia a piede libero di altre 90 e alla segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti di 63 consumatori. Nel bilancio di un anno di lavoro, anche il sostegno alla popolazione nel difficile periodo del lockdown, la consegna a domicilio di 700 tablet agli studenti e il ritiro delle pensioni imposta per gli anziani. I dati sono stati resi noti in occasione del 207esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carminieri. La celebrazione, così come già lo scorso anno, si è limitata, viste le misure per contenere la pandemia, alla sola deposizione di una corona d'alloro da parte del comandante provinciale Igor Infante, insieme al prefetto di Lecco Castres de Rosa, presso il monumento ai caduti dell'Arma nel cortile interno della caserma di Corso Carlo Alberto. Solo l'ultimo dato, sono 30 in tutta la penisola i Carminieri morti per Covid, 12.000 militari rimasti contagiati, nessuna delle 5.500 stazioni ha nemmeno per un minuto cessato la propria attività. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS